Sì, fai vedere questa immagine, poi mi dici che ne pensi. Ma perché piangere? Questa legge, seppur menomata, renderà le unioni civili una realtà in Italia. Cambiamo in questo modo dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie. È incredibile essere accusati di voler distruggere l'istituto della famiglia per chi chiede semplicemente una famiglia di poterla costituire alla luce del sole. I vostri compagni vi domandano mai chi sono i vostri genitori? Dicono, wow, pure io vorrei due papà. No, no, una mamma, una zia che mi ha portato nella pancia. Sì, però allora ti dico, ma tua mamma è morta? No, allora sono proprio di caccia. La relazione che noi abbiamo con Cynthia e Amanda, che le persone continuano a chiamare le mamme, ha bisogno di un altro nome. Che non è pensato? Che non è pensato?